Mi chiamo Francesco, ho 36 anni, sono di Scafati, sono un ex militare dell'esercito italiano e adesso vi racconto la mia storia. Il 21 settembre 2011, mentre prestavo servizio in caserma a Barletta, alle 4 del mattino vengono alcuni carabinieri a prelevarmi, dicendomi che sono stato accusato di traffico di sostanze superfacenti e ricettazione. Accuse assurde nei miei confronti mi portano sulla caserma dei carabinieri, mi mettono davanti un faldone di 1200 pagine, mi fanno vedere di che cosa ho accusato, mi mettono davanti alcune intercettazioni telefoniche. Guardando quelle intercettazioni telefoniche all'istante mi impressionai anche io, insomma era stato costruito un film criminale nei miei confronti. Dieti già spiegazioni ai carabinieri di Barletta di quelle intercettazioni, anche loro a un certo punto si convinsero che ci stava qualche errore, ma non ci fu nulla da fare perché era spiccato un mandato di arresto nei miei confronti firmato da un giudice del Tribunale di Torre Annunziata e mi portarono al carcere di Santa Maria Capovetere. Lì scontai i primi 4 giorni in isolamento, i 4 giorni più brutti della mia vita, solo a leggere e nient'altro quelle intercettazioni, trovare una spiegazione. Dopo finiti i 4 giorni mi portarono dinnanzi a un giudice per un colloquio di garanzia, giudice tra l'altro non di mia competenza, dove spiegai tutte quelle intercettazioni telefoniche e mi dichiarai innocente a 360 gradi. Da lì mi riaccompagnarono al carcere di Santa Maria Capovetere, scontai altri 21 giorni di carcere, il 22esimo giorno avevo il riesame a Napoli, il mio avvocato doveva fare il riesame a Napoli e il giorno prima venne scarcerato dal mio stesso pubblico ministero, nonostante io mi sia dichiarato sempre innocente. Mi revocavano gli arresti custodia cautelare in carcere, mandandomi agli arresti domiciliari. Da lì ebbi un'ennesima bastonata, quella dell'esercito italiano, perché l'esercito dopo pochi giorni mi mandò una notifica tramite i carabinieri dicendomi che ero stato escluso dal concorso e dopo pochi giorni mi arrivò un'altra notifica dicendomi che guarda sei stato collocato in congetto illimitato, cioè licenziato definitivamente. Da lì ebbi un crollo sia psicologico che economico giustamente. La cosa più assurda è che dopo altri pochi giorni mi arrivò un'altra notifica sempre dell'esercito dicendomi che dovevo restituire intorno ai 5 mesi di stipendi per un errore di calcoli fatti. Inizia un vero e proprio calvario, il giudice all'inizio quasi a non credermi, poi dopo gli indicai molte cose sul fascicolo e mi fece tante domande, fu un vero e proprio colloquio di interrogatorio e all'ultimo lo vidi molto perplesso, infatti dopo appena due mesi emanò, uscì la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Dopo il prosceguimento inizia un'altra lotta, lotta che io non pensavo di affrontare, perché lotta contro un'istituzione dove ho dato la vita e la vita non a chiacchiere, ho dato la vita col vero senso della parola e mi ritrovo a lottare contro questa istituzione per una cosa che non ho mai fatto. Nel luglio del 2016 è stata presentata un'interrogazione parlamentare con l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro, è stata data una risposta e quella risposta io sinceramente non l'accetto, non l'accetto perché si basa sui diritti morali, io di quei diritti non li ho mai persi, ho trascorso 4 anni della mia vita per dimostrare la mia innocenza e poi per un'accusa infondata nei miei confronti non è giusto che vengo buttato fuori così come se niente fosse, senza neanche aspettare la mia voce dell'innocenza. Dalla risposta della prima interrogazione sono trascorsi intorno ai 7-8 mesi, sono stato calpestato dal silenzio, questa cosa non la trovo ingiusta. Dopo la risposta parlamentare, risposta che io non accetto, è stata lanciata una petizione, ho raccolto intorno alle 35.000 firme e questo è una forza più che altro nei miei confronti perché ho visto 35.000 persone mi sostengono a questa mia situazione e mi danno forza ad andare avanti e a lottare fino in fondo questa mia situazione. Quello che voglio dire è che a questo punto non mi fermerò fin quando non avrò giustizia. Francesco ha ragione, la sua storia merita giustizia. Proprio per questo motivo chiediamo e facciamo un appello al Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, al Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, il Generale Claudio Graziano e a tutti gli organi istituzionali competenti perché quest'uomo, Francesco Raiola, si è reintegrato immediatamente nelle Forze Armate. Forze Armate dalle quali è stato espulso, utilizzerei proprio questo termine, qualche anno fa, quando la sua vicenda è iniziata. È stato espulso per la perdita, secondo loro, dei requisiti morali. È un uomo che ha subito qualsiasi tipo di ingiustizia, dalla detenzione obbligata e ingiusta, dalle ingiuste accuse e proprio per questo motivo lui deve essere assolutamente reintegrato. Abbiamo presentato come Movimento 5 Stelle un'interrogazione per chiedere il suo immediato reintegro. Noi, Francesco, vogliamo dirti una cosa, che non sei solo, al tuo fianco ci siamo noi e ti staremo accanto fino alla fine di questa vicenda, a te e anche alla tua famiglia.